Allora, il punto 2 dell'esercizio, e quindi la seconda metà di questa lezione, richiede di implementare una simulazione di eventi sul grafo. Allora, tra chi di voi ha provato a farla, alcuni hanno considerato il fatto che probabilmente il meccanismo della coda degli eventi, in questo caso, poteva essere superfluo, perché di fatto bisognava simulare il comportamento di n persone, che erano questi famosi bioingegneri, per 36 mesi, quindi 12 per 3, 36 mesi. Quindi bastava alla fine un doppio loop, con un indice ciclavo sui mesi, con l'altro indice ciclavo sugli ingegneri, e non avevo bisogno di creare gli eventi, la coda, eccetera, eccetera. E quindi questo esercizio in realtà si poteva fare semplicemente ragionando su dei cicli, perché avevamo una casistica in cui il tempo era predefinito e gli eventi erano esattamente predefinibili fin dall'inizio. Allora, alla domanda, si poteva fare anche così senza gestire una coda degli eventi? Ovviamente sì, nel senso che l'importante è che uno calcoli il risultato che è richiesto, simulando quella situazione. Gestire una simulazione con la coda degli eventi è la soluzione più generale, perché ci permette di gestire vari tipi di eventi e gestire vari tipi di, diciamo così, intervalli temporali. Se io avessi anche solo aggiunto la clausola che quando, che ne so, l'ingegnere cambia un gene, deve rimanerci almeno per due mesi, e allora si sarebbe complicato tantissimo se voi, anche dal punto di vista del codice, se voi l'aveste generato semplicemente con un ciclo. Mentre invece, generando gli eventi, vabbè, vuol dire che il cambio gene lo schedulo tra due mesi, anziché tra uno, fine. E quindi sarebbe una piccola, diciamo così, dettaglio implementativo per gestire delle variazioni, anomalie, diversità di trattamento. Ok? Quindi, io adesso lo risolvo usando il metodo normale, cioè lo classico delle simulazioni, usando la coda degli eventi, perché poi è quello più generale, che anche nel caso in cui ci fossero delle clausole un pochino più complicate, sappiamo, le possiamo gestire senza, senza dover, diciamo così, stravolgere il codice o complicarlo eccessivamente. Ovviamente, in questo caso specifico, si poteva tranquillamente fare, senza ricorrere a quella struttura, con una cosa un pochino più semplice, proprio perché l'esercizio lo permetteva. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo simulare questi N bioingegneri che ogni mese decidono quale gene studiare. Ok? Loro partono tutti, quindi all'inizio del tempo, tutti gli ingegneri studiano il gene selezionato dall'utente, e poi ogni mese decidono se continuare a studiare quel gene oppure studiarne uno diverso. Come in tutte le simulazioni, la cosa più critica è capire bene qual è il modello del mondo, quindi quali sono le informazioni di cui devo tenere traccia. Allora, a me sembra che di mese in mese, l'unica informazione che varia è l'associazione, il mapping tra ingegnere e gene. Quindi, se io ti dico esattamente su quale gene lavora ciascun ingegnere, quindi sul gene 1 lavorano questi tre, sul gene 2 lavorano questi altri due, eccetera, eccetera, io ti ho dato una descrizione completa di quello che sta succedendo in questo mondo simulato. Questo lo posso rappresentare in due modi, secondo me. Ho una struttura dati che, dato l'ingegnere, mi dica su quale gene sta lavorando quell'ingegnere, oppure la struttura dati che, dato un gene, mi dica se e quanti, magari quali, forse il quale non ci serve, in questo caso specifico, dato un gene mi dica quanti sono gli ingegneri che lavorano su quel gene lì. Ok? Quindi si poteva, secondo me, risolvere con due modelli, che chiamiamoli modelli del mondo, diversi. Adesso proviamo a vedere un po' il codice e ragionarci a livello di codice. Allora, per semplicità, fatemi creare una classe nuova, Simulator, anche se in realtà queste cose le potremmo tranquillamente mettere dentro il modello, però solo per tenere le cose lievemente separate. Allora, ingrandiamo lo schermo. Quindi, abbiamo detto, dentro il simulatore abbiamo sempre la coda degli eventi, abbiamo il modello del mondo, abbiamo i parametri di input, gli input e i risultati, i valori calcolati in output, ok? Allora, il modello del mondo partiamo da qua. Mi serve qualche cosa che mi dica, in ogni momento il modello del mondo è la parte variabile, è ciò che la simulazione fa evolvere. E quindi posso avere una possibilità, uno, che potrebbe essere dato dato un ingegnere dimmi su quale genere lavora. La possibilità due è dato un gene dimmi quanti ingegneri ci lavorano. E questo come lo lo posso mappare in come strutture dati? Beh, supponiamo che gli ingegneri non abbiamo informazioni sui ingegneri, li possiamo semplicemente rappresentare con un numero, un numero, diciamo così, da 0 fino a n-1, no? Allora, in questo caso, per sapere su quale genere lavora un ingegnere, la struttura dati più semplice è semplicemente una lista di geni. Gene studiato. Oppure chiamiamolo così studiagene. No, gene studiato. Quindi, in questo modo che cosa abbiamo? Abbiamo una lista che è indicizzata col numero di ingegnere, quindi farò nel mio codice e poi quando voglio conoscere i geni avrò genestudiato.get dal numero di ingegnere. Quindi, il numero di ingegnere numero 0, 1, 2, 3 accedo a questa lista e mi dice qual è il gene che questo ingegnere sta studiando. Da ingegnere a gene studiato. E quindi, io scandisco tutti gli ingegneri da 1 n, anzi da 0 n-1 e ciascuno mi dice qual è il gene che sta studiando e ogni volta, chiaramente, aggiorno questa informazione. La seconda modalità, invece, è diversa che, invece, prevede che ad esempio, io crei una mappa che dai geni mi dia il numero quindi come lo chiamiamo questo numero ingegneri una mappa che, dato un gene, mi dica quanti ingegneri stanno lavorando su quel gene in quel momento. Mi serve una mappa e non una lista perché, chiaramente, l'indice non è un indice numerico ma è un indice di tipo gene, di tipo oggetto e quindi mi serve una mappa per poterla indicizzare. E quindi, ad ogni volta, io dovrò andare ad aggiornare incrementare o decrementare questo valore che mi dice quanti ingegneri stanno lavorando su un singolo gene. Allora, ovviamente, questa informazione è la stessa, no? Rovesciata nei due modi possibili ma posso ricavare l'una dall'altra e viceversa. In realtà, nel caso 1 ho qualche informazione in più perché tengo anche tracce di chi sta studiando un certo gene mentre nella seconda avete solamente un integer come valore della mappa non ti so dire chi ma so solamente dire quanti. Quindi, eventualmente, dovessi tirare fuori altre strategie del tipo dimmi qual è lo scienziato che ha studiato più a lungo un certo gene e cose di questo genere non le potrei fare con la seconda cosa con la seconda struttura dati le potrei invece fare con la prima. Allora, io quello che ho visto forse tra i commenti che sono usciti su Telegram che non sono chiaramente esaustivi ma molti di voi si sono orientati verso questa seconda soluzione. Forse perché in altri casi avevamo già usato una mappa per tenere traccia delle quantità e così via. Io devo dire che invece mi sarei orientato più sulla prima perché mi sembrava più semplice da gestire semplicemente. Cioè, mi metto dal punto di... dipende un po' da che punto di vista vi mettete. mi metto dal punto di vista del gene o dal punto di vista dell'ingegnere? Del bioingegnere che deve studiare il gene. A me veniva più spontaneo pensare alla prima perché per me l'evento è il bioingegnere che ho... l'evento che adesso creiamo nella coda è il bioingegnere che ogni mese decide quale gene andare a studiare. E quindi io sono l'ingegnere numero 7 sto studiando questo gene ok, il prossimo mese che cosa farò? E allora ho l'informazione su quale gene sto studiando e posso eventualmente aggiornare questa informazione. Ok? Quindi, se non vi dispiace io porterei avanti la soluzione numero 1 forse anche più utile perché magari è diverso da quello che avete fatto molti di voi così ci vediamo una soluzione diversa. si poteva fare in entrambi i modi come dicevo a me è parso più semplice più immediato dire ok io ho questi n ingegneri e ciascuno studia un gene ok, mettiamo in un array i geni che ciascuno di questi studia visto che questo numero n è costante ok, e quindi scelgo di rappresentare l'informazione con questa lista poi ovviamente mi servirà anche scusate devo metterci un private davanti poi mi serve anche come modello del mondo ovviamente il numero di ingegneri n tot ingegneri quello che nel testo era chiamato n ma chiaramente è una variabile non la possiamo chiamare solo n se no non si ricordiamo più che cosa memorizza queste sono le due informazioni ma in realtà il numero totale di ingegneri me lo vedo più come un parametro di input scusate ok gli eventi quindi noi dobbiamo fare evolvere questo array se avessi facciamo ancora un esempio se avessi cinque ingegneri avrei un array in cui contiene gene1 gene1 gene3 ad esempio gene1 e di nuovo gene2 quindi un array che contengono dei geni e ciascuna posizione di questo array rappresenta il gene studiato da ciascun ingegnere che corrisponde all'ingegnere numero 0 ingegnere numero 1 ingegnere numero 2 e così via ok 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 la coda degli eventi quindi in questo caso cos'è è un evento che mi rappresenta il fatto che un ingegnere sceglie su quale gene lavorare il prossimo mese quindi posso crearmi una mia classe evento in questo caso ho eventi di un solo tipo quindi sarà molto semplice questa classe non devo gestire il tipo di evento perché il tipo è uno solo è passato un mese e devo decidere cosa fare e quindi avrò l'informazione del tempo chiamiamolo t che è un numero intero che va da 0.36 in questo caso non ci serve fare di più non ci serve da presentare direttamente java.time con gli anni e i mesi sono 36 mesi e poi il numero di ingegnere private int n ingegnere numero ingegnere c'è un A semplicemente questi due campi che mi dicono ok al tempo t l'ingegnere numero 7 deve decidere quale gene studierà a quel tempo nel tempo successivo Giovanni ha usato invece ci sta suggerendo di usare il local date per la simulazione la simulazione può sicuramente andare bene e poi ogni volta tu dici il dato di inizio il dato di inizio è oggi il dato di fine è oggi più tre anni e poi aggiungerai ogni volta un mese questo sicuramente può andare bene in realtà è una sovraspecificazione perché la simulazione non ci dice quando avviene questo se avviene now cioè oggi oppure cent'anni fa oppure tra cent'anni nel futuro quindi stai simulando un tempo specifico che cioè non è non è non è richiesto ma in realtà il risultato non cambia ecco si potrebbe benissimo fare anche con delle date vere ipotizzando così a piacere una data d'inizio se uno non volesse usare una data d'inizio specifica si complica un pochino di più la vita ma in Java punto time può usare gli oggetti tipo duration quindi ho una duration e praticamente stiamo misurando una durata tra un istante iniziale non definito e un istante che stiamo simulando quindi aggiungo ogni volta un mese all'oggetto duration duration serve per misurare intervalli e quindi non è collocato a nessun punto nel tempo quindi sì ci sono vari modi di farli io come sempre ho il vizio di cercare il modo più semplice vabbè questo evento ovviamente avrà i suoi metodi quindi il costruttore lo dobbiamo fare i getter non i setter l'evento per noi cerchiamo di gestirlo come oggetto immutabile e quindi solamente i getter e poi ovviamente poiché lo vogliamo mettere in accordo prioritaria dobbiamo fargli implementare il comparable con altri eventi e quindi dobbiamo fargli implementare public int compare to event other in cui andrò a return this punto time meno other punto time in questo caso sono interi quindi possono fare direttamente la sottrazione ok e qui inviamo la classe evento grazie alla quale possiamo tornare al simulatore e costruirci la coda degli eventi private priority queue poi quali altri parametri influenzano la simulazione sicuramente la simulazione è influenzata dal numero totale di ingegneri poi ci sono delle costanti che però possiamo indicare qua anche come parametri sappiamo che le tratteremo costanti però potrebbero essere il tmax che sono 36 numero mesi della simulazione simulazione poi abbiamo la probabilità di mantenere lo stesso gene quindi possiamo anche metterla qua double probabilità scusate qui c'era mancavo un int probabilità mantenere gene che è 0,3 altri parametri 70 ovviamente è complemento di 30 quindi non è un dato in più n è un parametro di ingresso che è scelto dall'utente l'unica parametro di ingresso veramente variabile è l'n perché è scelto dall'utente altrimenti gli altri sono delle costanti che semplicemente per comodità definiamo dentro una variabile per chiarezza del codice i valori calcolati che cosa calcola questo simulatore mi calcola punto di alla fine simulazione identificare quali geni sono in corso di studio e il rispettivo numero di ingegneri ad essi associati allora qui alcuni forse l'hanno inteso in modo corretto qui dice alla fine della simulazione quali geni sono in corso di studio a tempo presente quindi sono in corso di studio alla fine della simulazione quindi a me interessa solamente quali sono i geni che al mese 36 sono studiati da almeno un ingegnere ok non mi interessa tenere traccia di tutti i geni che sono stati studiati e poi magari nel mese 36 non c'è più nessuno che stia studiando perché sono tornati a zero ok è una fotografia del stato del sistema al mese 36 e quindi in realtà l'informazione che devo fornire in uscita è ricavabile facilmente dallo stato del sistema perché io basta che vada ad analizzare lo stato del sistema al mese 36 quindi non mi serve in questo caso tenere traccia di ulteriori informazioni ok e quindi in questo caso questi valori calcolati li possiamo li dedurremo da gene studiato poi c'è il suggerimento nella chat di corin giustamente che mi dice che tra i parametri di input c'è anche il gene di partenza assolutamente sì e quindi dobbiamo aggiungerlo ero dimenticato grazie genes chiamiamolo star gene ok allora con questo siamo pronti a implementare i metodi del simulatore implemento un costruttore incremento un costruttore che userò per inizializzare la simulazione e questo costruttore riceverà come ingresso ovviamente il gene di partenza quindi genes start e il numero di ingegneri int n Giovanni mi sta dicendo ma ci serve anche il grafo sì probabilmente mi serve anzi non probabilmente sicuramente mi servirà anche il grafo fatemelo aggiungere nel momento in cui mi serve ok adesso cominciamo e poi così capiamo qual è il momento in cui mi serve il grafo e allora andremo poi ad aggiungerlo perché è una cosa che onestamente la prima volta che ho iniziato a scrivere questo codice non ci avevo pensato e allora riproduciamo questo non è un problema si va avanti in modo incrementale allora inizializzare il simulatore allora potremmo avere un metodo init in questo caso uso direttamente il costruttore per inizializzare le variabili che mi servono allora cosa devo fare o conosco start e conosco n quindi come prima cosa li vado a memorizzare dis.stargin uguale start e dis.numero totale di ingegneri uguale n e così poi ce li ricordiamo poi abbiamo dobbiamo a questo punto inizializzare la coda degli eventi e il modello del mondo questi due li abbiamo già inizializzati dall'input e queste sono delle costanti quindi ci mancherà q e gene studiato che dobbiamo inizializzare allora la coda degli eventi è facile da inizializzare perché io devo semplicemente aggiungere un evento al tempo zero per ciascuno degli ingegneri quindi avrò un ciclo che per ciascuno degli ingegneri che va da zero a int che è un intero a numero di ingegnere minore di dis.numero totale ingegneri numero ingegnere più più per ciascuno di questi signori alla coda add aspetta che la coda devo crearla prima dis.q uguale new priority list se no null pointer exception si arrabbia con me ok allora a questo punto ho creato la coda e posso aggiungere un nuovo evento in cui t numero ingegnere quindi al tempo zero il numero di ingegnere che sto simulando quindi sto inizializzando la coda con tanti eventi tutti al tempo zero con i vari numeri ingegneri 0,1,2,3,4,5 ok e poi subito dopo quindi qua inizializza la coda e poi subito dopo andrò a inizializzare anche facciamoci più spazio inizializzo anche il modello del mondo diciamo così creando un array con tot ingegnere valori pari a al gene di partenza star gene giusto? tutti all'inizio tutti i 30 tutti i 20 tutti i n partiranno sempre dallo stesso gene quindi anche lì di nuovo un ciclo for i n ingegnere uguale zero quindi identico quello di prima potevo anche unirli ma per tenere separati n ing più più dovrò aggiungere l'array e anche qua l'array lo devo creare dis.gene studiato uguale new array list vuoto array list devo importarlo dice lui ok e quindi dis.gene studiato semplicemente aggiungerò una copia del gene del riferimento al gene di partenza faccio add non posso fare set subito perché nell'array inizialmente ha zero elementi quindi prima devo creare tutti gli elementi tutti uguali al gene poi una volta che li ho in questo render semplicemente fare get set per andare a rimpiazzare i singoli valori in funzione del singolo ingegnere del gene studiato dal singolo ingegnere allora questo dovrebbe essere tutto ciò che mi serve come inizializzazione ok e quindi ci serve un secondo metodo che sia il metodo run public void run che esegua la simulazione vera e propria ho un ciclo solito sulla sulla coda degli eventi quando while not this.q .isempti finché la coda non è vuota allora vado a prendere il singolo evento uguale q.pol e poi lo elaboro adesso in questo caso avendo un solo tipo di evento possiamo fare direttamente qua nel codice non ci serve la funzione process event che facevamo solitamente quando dovevamo fare quel grande switch tra le varie tipologie di eventi in questo caso è molto semplice quindi in questo caso devo valutare siamo al tempo t ecco possiamo estrarre i dati questo è facile allora int t uguale event .gett int estrargo i dati per comodità il numero ingegnere uguale event .gett numero ingegnere e poi mi può anche servire il gene che sto studiando adesso chiamiamolo g che lo estrargo dai geni studiati dall'ingegnere .gett numero ingegnere ok quindi ho tutte le informazioni mi dice ok adesso stai simulando il fatto che al tempo t questo ingegnere sta studiando questo gene e deve decidere che cosa farà al mese successivo allora innanzitutto mi devo controllare se al mese successivo dovrò ancora simularlo questo quindi perché se per caso t fosse già raggiunto fosse già arrivato al limite massimo fosse già 36 allora riparto da 0 quindi fosse da 35 non devo più simulare nulla e quindi mi posso fermare se invece t non è ancora arrivato al massimo allora dovrò simulare il mese successivo ok quindi quindi se se t è minore t minore di dis.tmax allora faccio tutto quello che devo fare altrimenti niente ho estratto un evento che mi dice guarda al tempo 36 questo utente sta studiando questo gene ma poiché sono già 36 non fare più nulla dopo ok qui non c'è un else per questa if else non creo più l'evento e quindi mando a desaurimento la coda degli eventi se no invece devo decidere che cosa studierà il mese prossimo quindi cosa studio il signor ninge al mese tp1 allora prima di tutto ho il caso in cui vado a verificare se continuo a studiare lo stesso gene oppure cambia ok e questo dipende da una probabilità che è del 30% quindi se if un numero casuale mat.random è minore della probabilità di mantenere il gene quindi mat.random mi dà un numero casuale uniformemente distribuito tra 0 e 1 se questo numero è minore di 0,3 nel 30% di casi uscirà un numero minore di 0,3 e nel 70% di casi invece uscirà un numero maggiore di 0,3 allora in questo caso se devo mantenere il gene mantieni altrimenti cambia mantenere il gene che cosa vuol dire? vuol dire che questo signore il mese prossimo continuerà a studiare lo stesso gene quindi io genererò un evento che mi dice guarda che al mese t più uno lui rivaluterà che cosa fare ma nel frattempo continua a studiare lo stesso gene quindi la non devo modificare gene studiato perché quella parte del modello del mondo non cambia lui stava studiando il gene g continua a studiare il gene g e mi ricordo che il mese prossimo dovrò di nuovo decidere quindi semplicemente aggiungerò un evento alla coda in cui schedulo che per il tempo t più uno devo andare a decidere di nuovo che cosa farà il mio ingegnere ma non modifico il resto cioè non devo modificare i geni studiati se invece devo cambiare qui la parte un pochino più complicata di questa simulazione devo trovare un altro gene un gene nuovo su cui spostarmi che sia uno dei geni adiacenti a quello attuale con una certa probabilità però ok allora come gestiamo questo discorso delle probabilità che è mandato non dico in palla ma è un po' in confusione oppure la prima volta che magari alcuni affrontavano questo questo tema allora noi abbiamo ciò che ci dice il testo e ci dice guarda che tu devi scegliere uno dei vicini con una probabilità che sia proporzionale al peso dell'arco che ti collega con questi vicini come lo possiamo diciamo così calcolare qual è diciamo come approccio generale no quando io devo estrarre un valore casuale o fare una scelta casuale che dipende da 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 diversi fattori allora fatemi provare a a illustrarlo graficamente se ci riesco allora togliamo questa che non c'entra immaginate che voi avete i vostri vari geni no quindi chiamiamolo G1 G2 e G3 no sono gli adiacenti e questo qua ha un peso di 0,77 l'altro ha un peso di 1,21 l'altro ha un peso di 0,99 chi se frega ok queste chiaramente non sono probabilità sono i pesi associati a vari geni che sono i geni adiacenti al G da cui stiamo partendo cosa devo fare io devo estrarre un numero casuale tra 0 e la somma di questi 3 quindi 7 più 1,8 8 più 9 17 7,2,9 è 1,10 19 9 riporto 1 1 più 1,2 2,97 estrarò un valore casuale tra 0 e 2,97 io me lo immagino così mi immagino di mettere in verticale in pilare in verticale il gene 1 con una barra alta 0,77 il gene 2 con una barra più alta 1,21 e il gene 3 con una barra alta 0,99 adesso mi è venuto forse troppo corto il gene 3 dovrei allungarlo un pochino di più così ok quindi io impilo queste sbarre queste diciamo così lunghezzi questi segmenti proporzionali al peso e ho una una superficie totale una lunghezza totale proprio di 2,97 allora io estraggo un numero casuale tra 0 e 2,97 quindi questo numero casuale potrà cadere qui potrà cadere qui potrà cadere qui potrà cadere qui eccetera a seconda di dove cade questo numero casuale vedete che ovviamente se G1 è più piccolo la probabilità che il numero casuale cada dentro G1 è più bassa poiché G2 è molto maggiore come estensione la probabilità che il numero casuale che di per sé è uniforme il numero casuale viene estratto uniformemente su tutta l'altezza complessiva però la probabilità che cada nel pezzo più grande è chiaramente maggiore proprio proporzionale alla lunghezza di questo pezzo ok allora io prenderò questo numero questo numero mi viene 1,5 ad esempio che è un numero casuale tra 0 e 2,97 cosa dici allora cosa dico non posso andare attenzione all'errore che alcuni hanno fatto a confrontare 1,5 con 0,77 con 1,21 e con 0,99 separatamente no 1,5 mi rappresenta questa distanza 1,5 e allora mi vado a chiedere 1,5 ricade dentro G1 allora prendo G1 1,5 ricade dentro G1 più G2 allora prenderò G2 1,5 ricade dentro G1 più G2 più G3 allora prenderò G3 ok quindi devo scegliere se questo è un numero random lo chiamo R il gene per cui R sia minore di G1 più G2 più G eccetera 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 la prima volta che trovo una somma dei valori dei pesi relativi ai singoli geni che sia maggiore a questo numero casuale allora vuol dire che l'ultimo gene che ci ho messo era quello che mi ha fatto superare la soglia e quindi è il gene da prendere lo potete vedere così alcuni lo vedono meglio così dicendo che ho il gene 1 che ha una certa fetta il gene 2 che ha una fetta più grande il gene 1 2 3 e il gene 3 che ha una fetta più grande dell'1 ma più piccola del 2 allora immaginate di andare al casino e di giocare alla roulette con una roulette i cui numeri non sono tutti uguali tutti equidistanti ma hanno una ampiezza diversa e a un certo punto la ruota si ferma a un certo punto e la probabilità chiaramente che esca il 2 è maggiore rispetto alla probabilità che esca il 3 perché occupa una superficie maggiore rispetto al punto casuale in cui la ruota si può fermare o la pallina si può fermare dipende un po' come è se pensate alla ruota della fortuna che gira e c'è la freccia ferma oppure alla roulette in cui c'è anche la pallina che si sposta ma dal punto di vista probabilistico sono la stessa cosa ok quindi dobbiamo ragionarcelo un pochino in questo modo mi serve la somma dei pesi una volta che la somma dei pesi estraggo un numero casuale tra 0 e la somma dei pesi e poi vado a vedere qual è la probabilità cumulata sto ragionando sulle distribuzioni cumulative di probabilità se volete vedervelo è un grafico in cui io ho la probabilità del primo la probabilità del secondo la probabilità di tutti e tre e sto estraendo un valore casuale r questo è il grafico di densità di probabilità cumulativa in cui ho g1 g2 e g3 e quindi ogni volta che passo all'elemento successivo sommo questo gradino è la probabilità puntuale di ciascun evento e invece la linea spezzata mi dà la probabilità cumulativa che si verifichi l'evento o uno di quelli precedenti tradotto in codice devo appunto calcolarmi la somma s di tutti i pesi estraro un numero casuale r tra 0 e s e poi andare a vedere r quando confrontarlo con tutte le somme parziali 1 1 più 2 1 più 2 più 3 eccetera e fermarmi quando trovo una somma delle probabilità che sia maggiore del mio r che quindi vuol dire che ho intercettato l'r col mio grafico di densità di probabilità cumulativa non densità di probabilità cumulativa ok allora in java alla fine significa che devo farmi due loop due piccoli cicli in cui a questo punto io devo calcolarmi calcola la somma dei pesi dei pesi degli adiacenti chiamiamola s poi estrae il numero casuale tra 0 e s e poi confronta il numero casuale il numero casuale r confronta r con le somme parziali dei pesi ok allora qui cambia gene qui dobbiamo calcolare la somma dei pesi adiacenti ci serve il grafo perché dato il gene g devo sapere quali sono i geni adiacenti e quali sono i pesi degli archi corrispondenti allora poiché mi serve il grafo devo aggiungerlo come qualcuno di voi l'aveva già visto prima nel modello del mondo o no nei parametri di input private graph di genes default weighted edge importiamo graph graph da grafo e lo importiamo da jgraph t e questo vorrà dire default weighted edge anche va importato questo vorrà dire che nel mio costruttore mi serve un parametro in più che sia il grafo graph genes default weighted edge grafo grafo e dovrò ovviamente salvarlo anche qua dis.grafo uguale grafo ok quindi me lo sono fatto passare dal modello e me lo memorizzo tra i miei parametri di input e adesso che mi serve lo uso qua nel mio metodo di cambiagene quindi avrò la somma s double s uguale 0 e vado ad analizzare tutti gli archi adiacenti a g g è l'arco su cui il gene che stiamo studiando adesso andiamo a vedere quali sono i suoi adiacenti quindi for default weighted edge e non confondiamo e come ev come evento con l'edge fatemi scrivere edge per estero perché altrimenti e si confonde con l'evento è vero che l'evento l'ho chiamato ev ma ci sono troppe cose che si chiamano con l'e qua allora default weighted edge lo prendo come grafo punto edges of g quindi per tutti gli archi che sono incidenti su g qui non mi serve outgoing o incoming perché l'arco non è orientato quindi è più semplice così non devo distinguere sommerò a s il peso di questo arco quindi dis punto grafo punto get edge weight di edge e quindi ho il mio valore di s della somma dei pesi fatto questo estrae un numero casuale tra 0 e else che è veramente di più facile double r uguale mat punto random per s ma appunto random mi da un numero casuale tra 0 e 1 se lo moltiplico per s mi darà un numero casuale numero reale non intero casuale tra 0 e s 0 compreso s escluso per come funziona il random e a questo punto devo confrontare r con le somme parziali dei pesi quindi restituire come gene nuovo il primo gene che mi soddisfa la disuguaglianza quindi genes chiamiamo nuovo inizialmente lo metto null e poi vediamo se riesco a trovare un gene che mi soddisfa dovrò sicuramente trovare un gene che soddisfa la disuguaglianza andando di nuovo a fare la stessa operazione sugli archi quindi mi vado a prendere di nuovo tutti gli archi che escono da G per ciascuno di questi devo fare la somma cumulativa quindi mi serve un double somma che parte da 0 vado a sommare il peso di questo arco quindi somma più uguale incremento il peso di questo arco e finora sembra che stia facendo la stessa cosa ma in realtà adesso vado a confrontare se la somma è maggiore di R quindi la prima volta confronterò la prima somma parziale è il peso del primo arco se questo peso del primo arco è già maggiore di R R vuol dire che R era così piccolo che mi vaggia bene il primo ok allora scelgo come nuovo che cosa proprio questo gene che sta all'altra parte dell'arco quindi quindi graphs punto get opposite vertex grafo arco edge vertice di partenza g e basta break l'ho trovato non devo cercarne altri esco da questo ciclo altrimenti vado avanti col ciclo vado avanti col ciclo e al secondo giro avrò un valore di somma che è maggiore che è più grande al terzo giro avrò un valore di somma che è ancora più grande prima o poi questo valore di somma diventerà più grande di R ok poi potete scrivere somma maggiore di R oppure come Mario mi dice ma usa minore dovrebbe essere R minore di somma noi abbiamo parlato prima di minore perché confrontavamo R minore della somma dei valori ok è uguale R rimane fermo l'importante è che capiamo che R rimane fermo cioè il numero casuale che ho estratto qua e la somma via via si incrementa allora la somma partendo da 0 parte da un valore che è più piccolo di R è sotto R poi R rimane fermo e la somma via via cresce appena la somma diventa più grande di R oppure se volete R diventa più basso della somma ho trovato il gene e qua mi ero dimenticato la prima volta che ho usato questo esercizio questo break per cui alla fine mi trovavo sempre l'ultimo perché continuavo ad andare avanti su somme sempre maggiori se la matematica non è un'opinione in realtà questa somma dovrà diventare prima o poi maggiore di R perché il numero casuale il valore massimo a cui può arrivare questa somma è proprio s che abbiamo appena calcolato un attimo fa e questo numero casuale è sicuramente minore di s magari minore di poco ma è minore di s quindi alla peggio all'ultima iterazione lo deve trovare Giuseppe ci ricorda nella chat che questo può funzionare solo se questo signore esiste cioè se il vertice di partenza è un vertice che ha almeno un adiacente altrimenti l'intera simulazione non ha senso in questo caso ok quindi per verificare questo caso io lo verificherei eventualmente direttamente nel costruttore tu mi hai chiesto di simulare una situazione ma questa situazione non ha senso perché il gene di partenza il vertice di partenza che mi hai dato non ha adiacenti quindi cosa vuoi che ti simuli se invece sono riuscito il vertice di partenza è a posto allora poi da lì in avanti non ho problemi perché se ha almeno un arco alla peggio ho due vertici e gli ingegneri andano avanti e indietro tra questi due ma comunque qualcosa sto simulando quindi giustamente Giuseppe è una condizione importante da controllare io non la controllerei qui che è ormai simulazione partita ma la controllerei nel costruttore adesso dobbiamo aggiungere sicuramente controllo ok però prima di cambiare contesto perché se no ci dimentichiamo ho trovato il gene nuovo devo schedulare l'evento devo aggiornare a questo punto ciò che so del mio sistema so che il certo signore al tempo t è passato a studiare un gene diverso e quindi il mio gene studiato per l'ingegnere tal n ing e sarà nuovo guarda l'autocompletamento l'ha fatto giusto al primo colpo quindi imposta il valore per l'ingegnere n ing che era quello dell'evento che abbiamo estratto e imposta che questa persona da adesso in avanti sta studiando il gene nuovo e poi ci ripensiamo tra un mese quindi poi ci ripensiamo tra un mese è esattamente di nuovo questa aggiunta dell'evento alla coda ok ecchi ora tutti il maneggiamento delle probabilità questo vale sempre ogni qualvolta l'abbiamo fatto con calma qui perché ogni qualvolta trovate un esercizio in cui ci sono tante probabilità diverse soprattutto in questo caso quando non sai quante sono perché se tu ci fossero quattro casi possibili ti fai i calcoli delle soglie a mano e va bene fai quattro disuguaglianze ma qui sono in numero ogni volta variabile allora ci serve un meccanismo generale per poter gestire e questo è questo meccanismo generale è un po' antipatico perché devo fare due volte la somma perché la prima volta mi serve il totale le altre volte successive invece mi servono i parziali però insomma possiamo sopravvivere una volta che abbiamo capito il meccanismo allora andiamo ad aggiungere il controllo per far contento Giuseppe no in realtà per far contento il simulatore quindi quando nel simulatore me ne accorgo nel run allora perché nel simulatore in realtà potrei già vederlo ma il costruttore non può non può ritornare un valore mamma mia mi avete messo in un casino perché il run non ritorna neanche lui un valore possiamo fargli ritornare un boolean che mi dica ad esempio no facciamo una cosa più pulita questo simulatore non può funzionare se il vertice di partenza è isolato allora io me ne accorgo subito qui prima di inizializzare la cosa degli eventi e altre cose controlliamo se il tis.grafo se nel grafo il il grado del vertice di partenza fosse 0 mi rifiuto di partire e allora genero un'eccezione le eccezioni sono fatte apposta per catturare condizioni in cui io ho chiamato un metodo e in realtà non lo dovevo chiamare allora new mi sembra che ci sia un nome potete chiamarla come volete ma mi sembra che ci sia un illogar argument exception che mi piace in cui dico cioè mi hai chiamato con un argomento che non va bene il grafo di partenza vertice partenza isolato poi nel model andrò a catturare questa eccezione mi sembra il modo più pulito di segnalarlo se mi chiami con quello io ti gioco un'eccezione e allora poi pensaci tu ecco caro model come gestire questa eccezione ma io non vado avanti non mi lascio costruire allora rispondiamo le domande in ordine perché sono arrivate un pochino Mattia mi dice non bisogna mettere somma maggiore o uguale a R fammici pensare somma maggiore o uguale a R allora pensiamo il caso dello 0 sì sì forse sarebbe più corretto adesso che in realtà con i numeri reali l'uguale è sempre un po' evanescente però se per assurdo il random mi desse esattamente il valore di 0 o il valore di 1 no 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 allora sarebbe il maggiore perché immaginiamo di avere esattamente 0,77 nel nostro esempio che saltasse fuori esattamente 0,77 e l'R fosse esattamente 0,77 allora devo già prendere il gene 2 perché con lo 0 ho preso il gene 1 quindi praticamente questi intervalli sono intervalli chiusi all'inizio e aperti alla fine sono tutti intervalli in cui il punto di partenza ad esempio lo 0 è compreso e il punto di arrivo è escluso perché il punto di arrivo è compreso nel punto di partenza dell'intervallo successivo quindi è più corretto mettere il minore proprio perché l'ultimo poiché R è sempre minore di S per come funziona random e l'ultimo intervallo sicuramente ha il punto di arrivo escluso e quindi per correttezza devo fare ragionare su tutti gli intervalli considerando il punto di mezzo il punto diciamo così di alcun passo da un intervallo all'altro come appartenente all'inizio di quello dopo non alla fine di quello prima quindi per questo il maggiore mi sembra più corretto poi no R non può essere uguale a S perché random ti risulti un valore tra 0 e 1 0 compreso 1 escluso se 0 funziona no perché non deve funzionare perché lui fa prima la somma e poi il confronto quindi alla prima iterazione lui fa la somma del primo intervallo e questo intervallo sarà diverso da 0 e quindi questa somma la prima volta che faccio il confronto è maggiore di 0 strettamente se fosse 0 vuol dire che quell'elemento ha una probabilità 0 di uscire cioè non deve uscire mai e quindi sarebbe giusto che lo saltassi e andassi a quello successivo ok poi quando ragionate sulle probabilità il mal di testa è assicurato questo non ce lo toglie nessuno ok poi c'è un'altra domanda sul gene isolato Simone mi chiedeva alla fine simulazione non si avrebbero semplicemente tutti gli ingegneri che studiano quel gene lì in teoria sì il problema è che quando faccio questi edges of mi salta fuori un null quindi in teoria sì nel senso che alla fine questi ingegneri non si possono spostare in realtà ci sarebbe un po' di contraddizione perché al 70% cambio gene ma se poi non posso cambiare gene quel 70% lì che cos'è cambio in me stesso non ha non ha tanto senso dopo che mi hanno detto che il grafo non deve avere dei self loop allora vi sto dicendo cambio e quello futuro sono sempre io ma nel grafo il self loop non ci deve essere è un po' incongruente sia dal punto di vista concettuale sia dal punto di vista operativo perché questi edges of se 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 il grafo è è vuoto e quindi questa somma qui fa zero con una probabilità cioè un po' tutto del genere qua dentro e poi soprattutto non troverò mai nessun nuovo perché non lo posso trovare tra gli adiacenti il gene stesso dovrei prenderlo come ulteriore caso particolare da simulare non mi salta fuori da questo codice perché il codice può prendere nuovo solo tra gli opposite e se gli opposite non ci sono in realtà in questo ciclo in realtà in questo ciclo non entro mai e quindi arriverò qua con un nuovo uguale a null dovrei gestirlo come caso particolare però poiché un caso particolare solamente alla via della simulazione che a quel punto il risultato già lo so nessuno si muove nessuno può far nulla preferisco bloccarlo a monte poi abbiamo aspetta c'è un'altra domanda Giuseppe diceva il controllo potremmo metterlo nel model prima di scomodare la classe simulatore una cosa sì Simone una cosa scusami Giuseppe una cosa non esclude l'altra nel senso che il model dovrebbe chiamare il simulatore solo quando è sicuro che quel vertice di partenza abbia degli adiacenti e quindi magari ci mettiamo una bella if ma in più il simulatore si autoprotegge diciamo guarda se mi chiami con una schifezza io scappi che non faccio niente ok quindi a questo punto starà al model decidere se fare un controllo prima e quindi eventualmente non chiamare il simulatore oppure non fare il controllo e andare a fare il catch dell'errore oppure tutte e due cose per carità nel senso che io faccio il controllo e poi magari c'è una modalità di errore al cui il model non aveva pensato ma il simulatore si ritrova a dover gestire una cosa non esclude l'altra questa classe simulatore diciamo così è capace di autoproteggersi anche se il model fosse distratto o se il model che facciamo noi oggi è perfetto ma domani magari qualcun altro richiama la stessa classe da un altro model e non è così diciamo così attento a questo dettaglio quindi sì ma non è in esclusione quello precedente poi le somme zero ok allora la risposta che ha dato Simone se in quel caso particolare costruisco un risultato ad hoc con un gene solo e tutti gli ingegneri lì non so quanto sia diciamo così conforme allo spirito della simulazione che dobbiamo fare però in realtà scendendo mettiamo i piedi diciamo così in contesto d'esame qui questo caso particolare non è contemplato non c'è scritto cosa dovete fare nel caso dei generi in cui il gene di partenza sia isolato e quindi qualunque cosa facciate va bene ok perché non è previsto esplicitamente delle specifiche ok funziona questa cosa non lo sappiamo non lo sappiamo finché non la richiamiamo dal model e dal controller e poi fino a quando non riusciamo a costruire il risultato che serve all'utente rispondiamo ancora a Manuel che mi chiede ancora un dubbio sulla probabilità ma perché nel primo mat.random abbiamo messo minore non minore uguale allora questo primo mat.random era questo qua la linea 69 questo è 0,3 ok allora noi vogliamo che al 30% manteniamo il gene quindi andiamo da 0,000 al 0,2999 allora qual è il 30% l'else mi cade dallo 0,3 0,0,0 quindi 0,3 è già fuori a 0,999 che è il massimo valore che mi dà mat.random ok il random lo metto dal lato del minore ma non è diverso perché anche qui il random la r l'ho messo dal lato minore e la soglia l'ho messo dal lato maggiore è solo che l'ho scritto il contrario e vi ho mandato in palla scusate anziché scrivere r minore di somma ho scritto somma maggiore di r però il numero random è sempre minore della soglia e non minore uguale perché la soglia prende già il valore specifico della soglia sarebbe già relativo all'intervallo successivo prossimo anno imparerò a non scrivere r del contrario c'è la parte diversa allora cosa ci manca ancora da fare ci manca sicuramente di chiamarlo dal model ma questo è veloce e ci manca di calcolare il risultato identificare quali geni sono in corso di studio e il rispettivo numero di ingegneri ad essi associati ah qui c'è la mappa famosa che dato un gene mi dice il numero di ingegneri allora la possiamo costruire qui nella simulazione ho usato una lista perché mi sembrava più comodo ma chiaramente nel risultato mi serve poi un metodo alla fine public che mi distribuisca una mappa che per ogni gene studiato map la genes mi dica quanti lo stanno ingegneri ed in questo momento lo stanno studiati quindi get geni studiati questo sarà da chiamare ovviamente la fine della simulazione java.util.map creiamo un risultato qua studiati uguale new hash map punto e virgola e a questo punto ci andiamo a scandire la nostra lista e degli ingegneri e incrementiamo le posizioni della mappa quindi for di nuovo nhing uguale 0 nhing minore di this punto totale ingegneri potrei anche fare un loop sull'array list ma poi ho difficoltà a trovare il valore dell'indice nhing pp cosa faccio qua dentro int cosa faccio qua dentro vado a controllare se quell'ingegnere ah no vado a controllare il gene come il gene studiato da questo quindi this gene studiato dal certo ingegnere quindi questo gene qua c'è già nella mappa se c'è già lo incremento se non c'è ancora lo aggiungo ok quindi if studiati punto contains key di g se lo contiene già devo incrementare quindi studiati punto put g studiati punto get g più 1 altrimenti lo devo creare studiati punto put g virgola 1 quindi classica mappa che è usata come batteria di contatori e poi ritorno i studiati allora questo è tutto ciò che serve al model il model creerà il simulatore chiama il metodo run e chiama get geni studiati che poi è il risultato che serve al controller ok quindi qui ho scandito l'array è andato a vedere per ciascun gene vado a incrementare semplicemente il contatore che dice da quanti e in questa mappa finiranno solo esclusivamente i geni che che compaiono almeno una volta nella lista salgo nel modello e quindi creo un metodo public che mi ritorna questa mappa che ce l'avevo ancora nel control c quindi ce l'ho qua al volo simula ingegneri questo riceve dal controller il gene di partenza e il numero di ingegneri n g chiamiamolo start non g allora in questo caso che cosa fa il controller qui siamo nel model il model crea il simulatore simulator sim uguale new simulator col gene di partenza il numero di ingegneri e un riferimento al grafo quindi il simulatore non lo può chiamare direttamente il controller ma devo passare dal model se non altro perché il grafo lo conosce solamente il model e non il controller simulator.run e poi ritorno simulator.getgeni studiati e lo restituisco al mio controller se vogliamo qua possiamo fare il controllo il try catch che dicevamo prima visto che sappiamo che mi può dare un'eccezione possiamo mettere tutto qua dentro catch illegal argument exception e allora in questo caso ritornerò un null quindi catturo l'eccezione in modo che non mi stampi i messaggi d'errore ma ritorno al chiamante null al controller un null e così il controller può gestire l'errore e stampare un messaggio d'errore opportuno qui sto andando a fare il catch di quel throw che ho fatto nel costruttore del simulatore controller controller saliamo ancora di uno e do simula beh a questo punto semplicemente devo prendere genes distart dalla combo punto get value dovrò prendere il numero dalla text dalla casa di testo quindi integer punto parse int di txt ing punto get text test beh qui devo fare il controllo degli errori ma mi concedete di farlo dopo perché siamo sul finire del tempo e a questo punto avremo un maps genes ed integer geni studiati che possiamo chiedere al modello get geni ah simula ingegneri dove start è il grafo e n è il numero di ingegneri ok e a questo punto se studiati a null allora diciamo txt txt result append text errore il gene selezionato e isolato barra n altrimenti faremo un cicletto per andare a stampare il contenuto di studiati quindi for genes g che sta dentro studiati punto keys keyset txt result append text allora devo stampare il numero del gene e il il numero di ingegneri che lo studiano ok quindi avrò g il numero del gene più spazio il numero di ingegneri che sarà studiati punto get dg e a capo allora sono d'accordo con lo scambio di messaggi tra belletrice e mario nel senso che geni studiati la calcolo solamente a partire qua scusate nel simulatore geni studiati la calcolo solamente quando viene chiamata questa funzione e quando viene chiamata andrà a leggere dis.gene studiato che è la fotografia al mese corrente e visto che la chiamo alla fine della simulazione mi darà la fotografia all'ultimo mese quindi tutti i geni che sono stati studiati in passato ma non vengono più studiati nell'ultimo mese non ci saranno qua allora un attimo con calmo proviamolo e poi perché non ho detto che sia giusto che non ci siano degli errori crea grafo prendiamo questo che sappiamo che è degli adiacenti mettiamo 10 ingegneri simulazione 5,5 simulazione 8 o 2 ovviamente essendo stocastica la simulazione prendiamo un altro che abbia magari più di 2 adiacenti oppure questi qua ne hanno uno ecco questo non ha nessuno se faccio la simulazione mi dà l'errore il gene isolato voglio trovare uno che avesse più di 2 adiacenti per vedere un po' se eccolo qua ad esempio questo qui che ha tantissimi adiacenti faccio la simulazione e mi dice che gli scienziati sono distribuiti in questo modo 3,1,2,2 se proviamo a mettere 100 scienziati qui manca una riga un messaggio di separazione se mettiamo 100 scienziati vediamo che ci sono divisi tra più geni in quantità diverse ok mi manca solo per capirci qualche cosa un messaggio davanti esattamente non riusciamo a decodificare mettiamo qua un messaggio risultato simulazione così riusciamo anche a capirlo allora le varie classi rivedere una classe e l'altra adesso vi faccio push tra un attimo quindi ve le potete guardare con calma event contiene solamente il tempo t e il numero di ingegnere e niente di più Mattia mi chiede all'esame se siamo accorti con i tempi possiamo creare i metodi del simulatore direttamente nel model sì sicuramente sì io ho fatto una classe simulatore a parte per non incasinarmi ma potete tranquillamente fare direttamente quei due metodi il linit il run dentro il modello non c'è nessun problema non fatele nel controller questo ovviamente ok Giuseppe mi chiede come avrei scritto il codice nel controller se al posto di controlli si disabilitavano i bottoni e avrei usato una set disabled true o set disabled false all'inizio all'inizio del controller avrei messo un set disabled true dei vari bottoni quindi all'inizio del controller i bottoni ci sono ma sono tutti disabilitati e nel metodo di creagrafo avrei messo un set disabled false quindi non sei più disabilitato e quindi ti posso premere non lo farei adesso per non rubare tempo alla fine della lezione se volete lo possiamo vedere diciamo così a parte offline facendo una modifica al testo un piccolo brancetto piccolo in cui si gestisce in modo diverso ok vi faccio un push così lo potete guardare con calma poi come sempre se avete domande siamo a disposizione eccolo qui e master commit measured parte 2 parte 2 completa non l'abbiamo testata tantissimo l'abbiamo testata un po' in fretta mancano ancora i controlli che aggiungo poi offline quando chiudo la lezione così faccio ancora un altro push con qualche controllo in più di pulizia e con questo diciamo che abbiamo finito anche questa lezione abbiamo finito il corso vi rubo ancora un minuto per una raccomandazione oltre al fatto che dovete compilare il questionario cpd se no comincio a rapiarmi o entristirmi che è equivalente all'esame cercate di fare le cose semplici ok keep it simple mettetevelo come motto anzi il motto sarebbe kiss come bacio keep it simple stupid sarebbe ma non mi permetterei mai di darvi il tributo dello stupid quindi lasciamolo con una s sola keep it simple cercate di trovare le soluzioni più semplici adottare le soluzioni più semplici non andate a incasinarvi quando non è effettivamente necessario ok non c'è un premio o un punto in più se fate le cose contorte ovvio trovare la cosa più semplice a volte è più difficile che non butta giù la prima cosa che viene in mente poi dopo ne aggiungi un pezzo poi dopo la fai ancora più contorta eccetera eccetera cercate di combattere la tensione che c'è l'istinto che c'è di fare una cosa e poi complicarla ecco se vedi che è diventata troppo complicata fermati un attimo e pensa se c'è un modo più semplice perché tante volte purtroppo vedo alcuni che si perdono un pochino perché fanno dei castelli eccessivamente complicati quando magari la soluzione è vera se ci pensi un attimo in più o valuti due o tre soluzioni alternative magari è più semplice non sempre nella vita non sempre c'è la soluzione semplice che funziona ma perlomeno cerchiamola ecco quindi cercate veramente di dedicare del tempo a pensare semplificare partire dall'essenziale la gestione dell'errore fatela anche per ultima fatela come ultime cose nel punto 1 è più essenziale perché fa parte delle lezioni vengono valutate ma nel punto 2 eccetera concentrate di più sull'algoritmo poi se vi rimane tempo alla fine potete abbellire mettere messaggini d'errore giocare sull'estetica eccetera eccetera però l'importante è quello che andiamo a verificare ovviamente è la correttezza dei risultati e la correttezza dei ragionamenti fatti quindi su queste cose cercate di concentrarvi non tanto sugli orpelli o sulla sull'aggiungere anche quest'altra cosa che nel testo non era richiesta e allora per chi te lo fa fare ok non ho altro e non vi rubo altro tempo le nostre 100 ore insieme le abbiamo trascorse spero piacevolmente e spero che altrettanto piacevolmente per voi sarà l'esame nel senso che è sempre uno stress ma speriamo che chi ha preparato chi ha seguito i lavoratori credo che non dovrà trovare grosse difficoltà perché come avete visto la tipologia di esercizi è abbastanza chiara è abbastanza definita ci vediamo il 30 giugno vi prenotate qualche giorno prima e noi vi daremo poi indicazioni su quelli che sono i turni i dettagli sempre tutto via il solito canale telegram grazie di tutto e arrivederci all'esame ciao a tutti